Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi recensisco la settima parte dei DVD. Abbiamo Trolls, Home, a casa, poi abbiamo i Pinguini di Madagascar, poi i volumi dei DVD dello zecchino, dei cartoni dello zecchino d'oro, volume 1, il torero e il camomillo, e il volume 2, le tagliatelle di Nonna Pina. Poi abbiamo il meglio di Playhouse Disney, con gli amici Disney, con Manny Tuttofare, i miei amici Tigre Puli, i Teinsteins e la casa di Topolino. Poi abbiamo Pocoyo, che anche questo era della mia infanzia di quando ero piccolo. Poi la festa di compleanno di Winnie the Pooh, anche questo era il ricordo della mia infanzia. Poi abbiamo Peppa Piggy, il camion dei pompieri, che quello era un ricordo di quando avevo 6 anni. E c'ho anche il Natale di Peppa, che ve l'ho già recensito tanto tempo fa. Poi Far Volare l'Aquilone. Poi abbiamo tre gemelli e una strega, il Tarzan e il Mago di Oz, e per finire Sean Vita da Pecco e Raffarmageddon, il film. E niente ragazzi, spero che questo video è terminato, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.